Dalla possibilità di assaggiare la pizza dell'amore a balli, musica e giochi a premi. Seconda edizione per San Valentino in Villa Nocera Inferiore, iniziativa promossa dal Comitato Intercomunale Grotti presso la struttura coperta del Parco Giochi di Villa Maria adiacente alla chiesa di Santa Maria degli Angeli dove gli innamorati potranno festeggiare a partire dalle ore 20 in un'atmosfera scoppiettante con musica live, con i flower show ed un'esplosiva sorpresa. A noi del Comitato stiamo organizzando già per quest'anno la seconda edizione di questa festa San Valentino in Villa all'interno di Villa Maria nel quartiere Grotti. C'è una struttura coperta all'interno della quale organizziamo questa manifestazione. Speriamo con l'impegno che abbiamo profuso quest'anno di migliorare il risultato già ottenuto nella prima edizione e vi aspettiamo tutti. Ci sarà musica live, balli, giochi a premi e la pizzeria Madison che verrà ad allietare la serata con le sue prelibatezze. Il San Valentino non è semplicemente una festa di giovani innamorati, bensì una festa rivolta un po' a tutti quelli che credono nell'amore amore per la famiglia, per gli animali, amicizia. Insomma quindi non ci resta che invitare un po' tutti perché noi con il nostro intrattenimento abbiamo modo di raccogliere una bella fascia di persone dai bambini alle persone anziane, balli, canti, insomma ce ne sarà per tutti i gusti. Vi aspettiamo!